Andiamo a quello che è un po' il punto centrale della presentazione, su cui ripeto non l'attraverserò in tutti i dettagli, sarebbe impossibile nei 20-25 minuti che mi rimangono, ma volevo darvi un'idea della struttura e darvi un'idea un po' di come abbiamo cercato di prevedere tutto. Se poi non ci siamo riusciti, la prima fase della pubblicazione del rapporto prevederà come sempre è avvenuto una consultazione che permetterà a tutti di offrire suggerimenti, proposte e integrazioni. Come siamo arrivati a costruire questo rapporto? I principi guida del progetto che abbiamo lanciato lo scorso anno sono stati commentati da i 3.709 sottoscrittori, vedete abbiamo analizzato i commenti, li abbiamo modificati e integrati e adesso vedrete che questi principi costruiscono la struttura base che abbiamo chiamato carta per la tutela della salute dei cittadini. Abbiamo costruito una mappatura delle criticità per le varie categorie di stakeholders, abbiamo lavorato sulle linee di indirizzo e sulle relative azioni, abbiamo analizzato tutte le audizioni alla Camera e al Senato sulla sostenibilità del sistema sanitario nazionale, credo che non sia stato fatto nemmeno in sede parlamentare, abbiamo analizzato gli altri rapporti, il rapporto Oasi, il rapporto Serva Saluto, il rapporto Istat, il rapporto Mediano Sanità e abbiamo avviato come facciamo ormai da anni una sorveglianza continua e l'analisi della letteratura internazionale ovviamente su le strategie di politica e organizzazione sanitaria, l'attività parlamentare di questo ultimo anno, le criticità clinico assistenziale organizzative che emergono tutti i giorni dalle aziende sanitarie, i dibattiti pubblici sulla sostenibilità del sistema sanitario nazionale e anche post e commenti del gruppo Facebook salviamo il nostro sistema sanitario nazionale. Queste ultime modalità sono quelle che ci hanno permesso di andare a costruire, di andare a strutturare quelle conoscenze tacite facendole diventare esplicite.